Non vi dico a quanto sono, ma insomma... Lo spesometro e la nuova fattura elettronica, l'autoriciclaggio e l'avvenimento operoso sono solo alcuni dei principali argomenti dell'edizione 2015 di Telefisco. Giunto alla 24esima edizione, la manifestazione organizzata dal Sole 24 Ore passa al setaccio tutte le novità fiscali del 2015, un anno particolarmente intenso sotto il profilo delle norme tributarie introdotte dai provvedimenti degli ultimi mesi, dalla legge di stabilità alle semplificazioni fiscali. Ed è proprio sulla legge di stabilità che, secondo gli esperti e gli addetti ai lavori, c'è il maggior bisogno di chiarimenti e commenti. Lo confermano, del resto le parole dell'esperto intervenuto alla mostra ad Olcremare di Napoli, Alessandro Sacrestano, ascoltiamo. Questa è una delle leggi di stabilità che richiede un maggiore intervento in termini di commento. C'è molta carne sul fuoco, c'è molto di cui parlare. In termini di agevolazione, per esempio, colpisce particolarmente la completa deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, che è una cosa che confindustria, ma in generale tutte le imprese e i lavoratori autonomi stanno chiedendo da un bel po' di tempo. Un processo che deriva, io credo, da...